Non nascondo di essere preoccupato da quanto sta accadendo in questi giorni e soprattutto da cosa sta succedendo all'interno delle varie componenti sociali, insomma, di come viene comunicato quello che sta accadendo e di qual è la reazione, e soprattutto alle contraddizioni, al sommarsi delle voci, al clima di incertezza, al clima di scarsa fiducia che si sta creando, diciamo, al possibile panico da una parte, ma alla possibile reazione sconclusionata, di scarso controllo, insomma, delle tensioni sociali, tensioni sociali che possono avere anche dei motivi giusti ma che a volte possono anche avere origini meno nobili. Allora credo che in queste cose valga la pena di ragionare. E come ragionare? Provo a servirmi ancora di una metafora. Tutto sommato la letteratura ci fornisce anche metafore o anche la storia, insomma, in questo caso prenderò una metafora dalla storia, insomma, dalla guerra. No, perché ho sentito dire spesso che siamo in guerra, no? Che il nostro nemico a questo punto è questo coronavirus. È un nemico che non è oltre i confini, intanto, no? È un nemico che ha al di qua dei confini. Ognuno ce l'ha in casa. Non abbiamo un confine fisico da difendere. Non ci sono le Alpi, insomma. Non c'è il piave, insomma. Non ci sono linee oltre le quali c'è il nemico e al di qua ci siamo noi. Il nemico ce lo portiamo dentro e ce lo passiamo di mano in mano, cioè di persona in persona, insomma. Potremmo averlo a fianco e non sappiamo perché questa è l'altra cosa, insomma. Ma no, non sappiamo dove lo possiamo prendere. È un nemico che conosciamo ancora poco, insomma. Nonostante tutto quello che si dice, anche questo è un retaggio che ci avviene da questa storia, è che conosciamo ancora poco di questo nemico. Si dicono tante cose, però nessuna di queste cose è certa e si rassicura, perché abbiamo visto che molte cose che venivano dette, diciamo, dai tecnici, dalle persone super competenti, poi in realtà si sono anche dimestrate fasulle, che non hanno ottenuto nei confronti della realtà. E quindi è un nemico in parte sconosciuto. Di questo nemico, secondo me, una cosa si è detta poco, anzi non l'ho sentita quasi mai dire, però io la sento presente. Non so perché non si dica, forse perché è una cosa falsa. Io la dico per quello che la sento io, poi non è vero che questo corrisponda a realtà. Ma, insomma, uno dei miei timori nei confronti di questo nemico è, diciamo, la malattia che ci può provocare, insomma. E quindi anche coloro che vengono infettati dal virus, insomma, e che guariscono, che sono asintomatici, quindi uno potrebbe dire, vabbè, insomma, no, mi prendo una malattia che non mi dà nessun sintomo. Essendo un ospite, anche quando non si dà sintomi al momento, piuttosto pericoloso e piuttosto sgradito, riesce a dannezzare parecchie parti del nostro organismo. Dipende dal nostro sistema immunitario, dipende da tante componenti. Può darci sintomi diversi, ma comunque prende tanti organi del nostro organismo. Il cervello, il cuore, i reni, il sangue, i vasi. Anche quando siamo colpiti dalla malattia, ma nello stesso tempo siamo anche asintomatici, quindi il nostro, diventiamo pericolosi solo perché la possiamo trasmettere, ma noi non soffriamo particolarmente, anche in quel caso un rischio, secondo me, c'è. Ci sono molte malattie virali, insomma, le conosciamo, il morbillo è anche uno di questi, insomma, no, che possono colpire e non dare manifestazioni gravi all'inizio, però possono creare nell'organismo delle premesse per delle malattie che si svilupperanno in futuro. Per quello che riguarda il morbillo, per esempio, quando colpisce individui molto giovani, bambini al di sotto di un anno di età, si scrive che uno su 600 può sviluppare, a distanza di 5 anni, una patologia molto grave neurologica che è la panencefalite esclerosante subacuta e che può portare alla morte, e che porta alla morte. Non so, voglio dire, ci sono delle infezioni batteriche, quello dello streptococco beta-emolitico gruppo A, che può dare una tonsillita nell'infanzia, ma poi ne vediamo gli effetti, magari nel persona adulto, che magari nell'adulto, che si sviluppa, magari a 40-50 anni, una cardiopatia, no? Possiamo pensare anche alla sclerosi multipla, insomma, no? Che a volte, come dire, ci sono delle ipotesi, insomma, ci sono degli studi che possono dimostrare che quello che succede a un certo momento, quando comincia la sclerosi multipla, è il fatto che magari un'infezione virale ha esposto un antigene che prima non era riconosciuto dal sistema immunitario e a questo punto si sviluppa invece la sclerosi multipla, che poi è una malattia che procede, che va avanti per conto suo, secondo varie forme cliniche, ma succede così. Si potrebbero citare altri esempi, quella dell'encefalite epidemica e quindi del Parkinson postencefalitico, insomma, solo per stare nel campo neurologico, ma poi evidentemente se si parla con i cardiologi, con i nefrodici, probabilmente ci sono anche altre situazioni che sono di questo tipo. quindi anche quando noi siamo affetti da questa malattia e magari siamo sintomatici e non ci ammaliamo e diciamo ma tanto non ci fa niente, in realtà creiamo le premesse perché potrebbe, dico potrebbe, non potrà, potrebbe svilupparsi una patologia in futuro. e quindi dopo superata, diciamo, questa pandemia, chi è stato affetto da questa malattia potrebbe comunque ammalarsi per le conseguenze di questa malattia che si potrebbero vedere in tempi successivi e che potrebbero poi assumere un andamento proprio, una forma clinica loro propria. questo lo dico perché al di là degli effetti che l'individuo può avere da questa malattia, sintomi più o meno gravi, anche la morte, perché vediamo che ci sono anche tanti morti, più di un milione nel mondo intanto. Allora, al di là di questo, è importante non ammalarsi, anche se la malattia risultasse asintomatica, perché non sappiamo, non sappiamo cosa potrebbe succedere dopo. Lo possiamo soltanto ipotizzare, ma come tutte le altre cose. No, adesso stiamo anche criticando il fatto che nell'ipotesi di una seconda ondata non abbiamo messo in atto dei prevedimenti. Si trattava di metterli in atto non nella certezza di una seconda ondata, ma nell'ipotesi di una seconda ondata. Quando si lavora sulle ipotesi è sempre più difficile, perché è difficile comunicare un'ipotesi della quale non si ha la certezza. Farla capire alla gente, quindi farla accettare. Ci tenevo a dire, insomma, che anche questa può essere una possibilità, una cosa da tenere presente nel nostro confronto con questa patologia, insomma, con il coronavirus. Ritornando al discorso iniziale, il nemico ce l'abbiamo in casa, non è oltre i confini. Ormai, diciamo, è un nemico che ha invaso il mondo, no? E' in mente certi film di fantascienza, insomma, no? in cui gli extraterrestri hanno occupato tutto il mondo. E tutti ci confrontiamo con questo fatto, insomma. Tutti, tranne forse qualcuno che è riuscito a mettere in atto delle strategie per tempo e che, almeno sembra, perché poi la comunicazione all'interno di questi paesi può essere, può avere dei limiti, insomma, no? Perché non siamo certi di quello che questo paese ci comunica, ma, insomma, certi paesi sono riusciti ad avere un controllo migliore di altri. Pochi paesi sono riusciti ad avere un controllo migliore degli altri. Sta di fatto, insomma, che le democrazie occidentali si stanno confrontando tutte, più o meno, nello stesso modo, con tempi più o meno diversi, ma sfasati leggermente di qualche settimana, si stanno confrontando con lo stesso problema e tutti cercano di mettere in atto determinati presidi. Allora, rispetto a un nemico, uno in guerra cerca di combatterlo, insomma, no? Cerca di mettere in atto delle difese. Cosa fa? Insomma, ha un esercito che ha delle armi. E mi faccio, per esempio, alla Prima Guerra Mondiale, no? Tutta la, diciamo, le energie del paese si spostano per combattere questo nemico. Insomma, i soldati, le forze, le forze vive del paese, i ragazzi che lavorano, lasciano i campi, lasciano le attività produttive e vengono mandati al fronte, dove al fronte spesso vengono ammazzati. Succede che il potere alla fine passa nelle mani dei generali, pensiamo a Cadorna, insomma, nonostante Caporetto. Ma dopo Caporetto c'è stata la linea del piave e quindi tutte le forze produttive si spostano. Diciamo, l'economia si trasforma in modo tale da produrre strumenti di difesa. Se c'è bisogno di cannoni, c'è bisogno di aeroplani, c'è bisogno di carri armati, non lo so, nella Prima Guerra Mondiale ancora, insomma, cominciavano appena e non so se in Italia, ma c'è bisogno di armi, c'è bisogno di armamenti da mandare al fronte, tutta l'economia, le donne, vengono tolte e vengono mandate nelle fabbriche al posto degli uomini, ma nelle fabbriche per produrre cannoni. È chiaro che l'economia ne ha un tracollo, l'economia di guerra è un'economia che tradizionalmente soffre, no? Vediamo che durante le guerre ci sono delle grandi svalutazioni, delle grandi crisi. Spesso poi dopo la guerra si riparte, ma durante la guerra l'economia quindi la preoccupazione maggiore quando si è in guerra è di evitare che il nemico sfondi e se sfonda un primo fronte, pensiamo a Caporetto, quella di ricostruire un'argine in modo tale che il nemico poi non invada tutto il paese, no? Che il paese sia conquistato. Questa, insomma. Allora, il nemico in una guerra è abbastanza facile individuarlo, dicevo, sta al di là dei confine, insomma, no? E noi facciamo barriera, si fa una barriera in generale, il comando, si schierano le truppe e tutto è concentrato, gli sforzi e anche le alleanze poi, no? La politica gioca sulle alleanze ma gioca su un terreno di aiuti, di eserciti, insomma, di quello che è per cercare di combattere, di rimandare il nemico al di là dei confini per poterlo vincere, insomma, no? La vittoria è la sconfitta di un nemico. Arrivare a una pace, insomma, no? Ma col virus è difficile arrivare a una pace perché il virus obbedisce soltanto a una legge di replicarsi e il virus ce l'abbiamo dentro di noi nel senso che il nemico essendo dentro di noi fa sì che ognuno di noi possa essere nemico di un altro perché gli può trasmettere questo virus quindi una persona anche sana può fare ammalare un'altra. Se noi vediamo per strada delle persone armate che possono rappresentare un pericolo di noi cerchiamo di decare un'argine con queste persone armate che non sappiamo cosa pensano anzi vogliono abbiamo dei segnali che vogliono entrare in casa nostra e cosa facciamo? Chiamiamo le forze di polizia perché ci difendano da queste persone armate che non sappiamo che ci possono farci male no? E cerchiamo di difenderci cerchiamo di chiudere bene le nostre porte magari di stare chiusi in casa insomma non usciamo se vediamo che c'è un po' di gente con la pistola e non sappiamo che uso può farne fuori dalla porta ci chiudiamo in casa un nemico di questo tipo come si combatte? insomma quali sono le armi che abbiamo? abbiamo visto insomma le armi che abbiamo sono la protezione che possiamo farsi no? cioè sono quelle di stare chiusi in casa e di evitare che altri ci contaminino insomma che ha infetto contagi che non lo è sia che sia malato sia che non lo è perché questa poi è la specificità di questa situazione e le misure sono delle misure di tipo epidemiologico quella è l'arma l'arma fine di mondo sono le misure epidemiologiche è il contenimento insomma no è evitare la propagazione perché abbiamo visto che questo virus si propaga quando ha preso piede quando ha superato una prima linea di difesa nella quale l'esercito può ancora tenere poi va per conto suo non ci sono più armi o sbarramenti che siamo in grado di mettere davanti magari ci sarebbero ma non siamo più in grado di produrla insomma quindi il problema è quello di evitare che questa che queste linee che la prima linea di difesa si sfondi al momento attuale questa linea di difesa si è già sfondata siamo già diciamo caporetto già stata perché ormai si è superato in questa seconda ondata un numero di casi tali per cui quel controllo che si può fare attraverso il tracciamento risulta praticamente impossibile i nostri generali hanno già deposto le armi pensano che non sia più possibile in qualche modo stare dietro e quindi fare il tracciamento proprio perché si è superato un certo livello una certa capacità di produrre delle armi che possano essere efficaci quindi ci si deve trincerare nella linea del piave insomma quando ci si trincera nella linea del piave insomma a tutti i costi bisogna evitare questo sfondi perché altrimenti la diffusione insomma siamo in mano completamente al nemico essere in mano completamente al nemico vuol dire che il virus poi a mano libera vuol dire che distrugge le nostre ulteriori difese che sono la possibilità poi di usare gli ospedali per le cure di usare gli ospedali anche per i malati che non sono affetti da coronavirus ma che hanno altre patologie insomma vuol dire che tutto il sistema della sanità pubblica viene meno vuol dire poi che anche il sistema della scuola viene meno di conseguenza perché se nella scuola la gran parte delle persone sono malate non si può più a scuola e così via insomma non si può più viaggiare allora se si arriva a questo sfondamento siamo siamo a una situazione che diventa incontrollabile e poi siamo bloccati comunque insomma siamo bloccati senza poi neanche avere personale a cui far riferimento quando stiamo male quando stiamo per morire quando siamo ammalati non abbiamo più gli ospedali accessibili non abbiamo più medicine o cose varie insomma siamo nel caos più completo allora è chiaro che bisogna evitare di arrivare al caos più completo le nostre armi sono queste comunque del distanziamento fisico no? sono quelle vabbè le mascherine lavarsi le mani insomma tutte le misure igieniche che permettono di evitare il contagio di fronte alla peste leggevo che in tempi andati che era malato di peste veniva chiuso con la sua famiglia in casa gli chiudevano la porta dall'esterno li portavano una volta al giorno da mangiare glielo lasciavano ovviamente fuori e questi non potevano uscire insomma non c'era libertà che teneva insomma questi qua erano chiusi in casa confinati per 40 giorni e venivano soltanto alimentati dall'esterno gli veniva lasciato lì un piattino di roba l'appestato essendo un qualcosa di capace di diffondere la malattia veniva automaticamente isolato insomma e anche le altre persone che erano che potevano rappresentare un pericolo in questo senso venivano direttamente chiuse in casa isolate e messe in quarantena in questo modo chiuse a chiave e non potevano ne uscire ne fare niente soltanto venivano rifornite di cibo insomma per poter sopravvivere adesso invece siamo in una condizione diversa non è più possibile chiuderti in casa la cosa auspicabile sarebbe che si stesse in casa in maniera volontaria allora io per quello che mi riguarda io ho una certa età quindi sono in un'età a rischio vivo con una compagna che è più giovane di me e che lavora cioè lavora nella scuola insegna allora io non esco sostanzialmente se non per fare di tanto in tanto una passeggiatina piccola in un quartiere dove non non c'è nessuno per la strada non vado al cinema non vado al bar non vado in concerti non vado non vado da nessuna parte non prendo mezzi pubblici al massimo prendo l'automobile per andare a fare la spesa possibilmente mando lei a fare la spesa perché lei comunque è già per lavoro per necessità è a contatto con possibile fonte di contagio comunque anche se con tutte le possibili garanzie eccetera ma la scuola rappresenta sempre un contatto con l'esterno a questo punto si tratta di vedere come si convive insomma noi noi comunque dal momento in cui lei ha preso a insegnare cioè dal momento in cui non facciamo più la stessa vita per cui abbiamo la garanzia l'uno dell'altra noi non anche in casa quando lei c'è teniamo la mascherina insomma no lei va a dormire in un altro luogo non dorme più in casa con me e anche preparare da mangiare eccetera usa i guanti e cerchiamo anche di proteggerci tra di noi nel momento in cui uno di noi fa una vita diciamo diversa ha dei rapporti diversi rispetto all'altro no è eccessivo può essere però come dire pensiamo le conseguenze insomma no l'idea di di finire in rianimazione o di andare a intagiare un pronto soccorso in crisi respiratoria queste cose qua non è una cosa che fa piacere e uno cerca di proteggersi soprattutto quando per fare questo non deve rinunciare a granché insomma no dal mio punto di vista le cose che non posso fare o che non voglio fare quelle di muovermi di partecipare a raggruppamenti sociali di andare a pranzo fuori a cena fuori di fare tutte queste cose qua non mi costano nessun sacrificio io sto qua e magari cerco di passare il mio tempo leggendo insomma facendo queste cose che che sto facendo è chiaro che poi chi invece lavora per per vivere lavora per mangiare è chiaro che lui ha anche altri problemi ha il problema di non di sopravvivere di non morire di fame e qui si pone comunque un problema di decisione insomma non si può salvare capra e cavoli insomma bisogna decidere cosa è importante insomma in tempo di guerra se bisogna pensare di vincere la battaglia o se bisogna pensare di conciliare tutti con il rischio che si perda la battaglia insomma o che si perda la guerra insomma no allora il primo fronte abbiamo detto che è già è già stato conquistato caporetto già arrivata si tratta di tenere la linea del piave su questo fronte dobbiamo essere uniti insomma no noi abbiamo vinto sul piave anche perché a un certo punto diciamo gli austriaci sono stati presi per fame è arrivata un'altra malattia che è stata la spagnola che ha comunque cominciato a decimare erano erano troppo lontani e quindi dal centro per cui non riuscivano a dover i rifiuti il nostro nemico si è indebolito abbiamo tenuto sulle linee del piave anche perché abbiamo avuto dei grandi aiuti perché siamo riusciti nel frattempo a creare un'economia di guerra e a produrre armi eccetera e a mandare gente anche giovane sulla linea del piave insomma ci siamo concentrati esclusivamente in quella battaglia che era quella di sconfiggere e di rimandare a casa il nemico riusciamo a fare la stessa cosa adesso oppure siamo disuniti cominciamo a fare polemiche sul perché il nemico è arrivato eccetera eccetera invece che concentrarci sul momento in cui siamo continuiamo a recriminare sulle responsabilità sulle cose che non sono state fatte su tutte le contraddizioni che abbiamo avute anch'io avrei da farne di queste recriminazioni avevo fatto dei video in tempi non sospetti dicendo delle cose che ovviamente non sono state ascoltate e sono molto meravigliato quando sono successe delle cose quando i gestori di discoteche per esempio hanno minazzato non so se sono ricorsi al tar per evitare la chiusura insomma no cose sue quando si è ritornato a viaggiare in maniera indiscriminata in Italia all'estero eccetera tanto è vero che adesso mentre prima avevamo delle regioni che insomma in qualche modo non erano colpite adesso è tutta l'Italia per cui il problema si è ingrandito ancora di più perché si è steso è tutta l'Italia che bisogna gestire adesso con zone dove la sanità sappiamo è molto meno efficiente però il problema non è quello di andare a recriminare e di vedere le responsabilità il problema è quello di cosa dobbiamo fare adesso e del perché si fanno certe cose mentre nella prima fase la polemica era sulle mascherine insomma no mascherine sì che mascherine anche non ci sono eccetera eccetera adesso sembra che il tema centrale sia quello dei trasporti no allora l'epidemia avviene perché i trasporti sono fatti così e perché non vengono mantenute nei trasporti le distanze e quindi non sono stati come dire non si è studiata abbastanza la situazione di trasporti non si è fatta abbastanza per i trasporti per le metropolitane e quindi quella è la causa di tutto non c'è una sola causa insomma no le cose sono molto più complesse sentivo stamattina un'intervista del coordinatore nazionale dei trasporti che diceva che più di tanto non si può implementare non si possono implementare i treni in una metropolitana perché sono tutti sistemi di controllo tutte cose che più di tanto non sopportano insomma se si deve fare un lavoro del genere bisogna avere tempi lunghissimi insomma bisogna poter rifare tutto e così anche per quello che riguarda i trasporti urbani all'interno delle grandi città insomma non è così semplice implementare i trasporti anche a livello della scuola tutto quello che si dice ma spostiamo eccetera eccetera i tempi sì ma quando si va poi a parlare con i dirigenti scolastici c'è una resistenza per cambiare i turni all'interno della scuola anche perché spesso la scuola è anche considerata un luogo di babysitteraggio e allora se la mamma ha bisogno di avere il tempo libero e sa che ce l'ha dalle otto alle due per poter lavorare per poter fare le cose che deve fare non è la stessa cosa che poi il figlio vada dalle due alle sei o alle otto a scuola insomma del pomeriggio non è così così semplice insomma cambiare gli orari cioè quando si fanno proclami tutto sembra semplice ma quando si vanno poi a considerare le cose nel nel loro cioè nella loro consistenza reale allora si si accorge che ci sono grandi difficoltà chi è abituato a semplificare insomma certe forze politiche che danno dei messaggi molto semplici facili da rezzepire ma che non tengono conto della complessità e che sono quando si fanno quei proclami è facile ma quando poi ci si cala nella realtà e si deve fare delle scelte è molto è sempre molto difficile e le scelte allora se il nemico è questo che scelte si potevano si potevano fare no tenendo conto che l'arma l'arma fine del mondo è il distanziamento insomma è l'evitare che le persone stiano in contatto tra loro e che se sono in contatto tra loro diciamo stiano il più distante possibile i rapporti siano il meno frequenti possibile e protetti ovviamente insomma da tutte le misure di sicurezza che ci danno una sicurezza ma non una garanzia di sicurezza ma una probabilità di sicurezza anche lì non sappiamo come in realtà la potremmo prendere secondo me insomma quali erano le possibilità che aveva il governo no allora una possibilità poteva essere quella di dire siamo tutti responsabili e quindi state tutti a casa non c'è bisogno di come dire non c'è bisogno di prendere misure io non è che vi do la multa se voi uscite perché so che voi non uscite perché siete responsabili perché avete realizzato bene qual è il pericolo e quindi a questo punto state a casa non vi muovete non vi muovete da casa evitate di andare spontaneamente evitate di andare al cinema teatro di fare tutte quelle cose che comunque insomma non è tanto il cinema ma è che magari poi vi incontrate fuori magari per andare al cinema prendete un mezzo ci andate con gli amici insomma evitate state solo a casa è come se ci fosse un lockdown ma non costretto un lockdown volontario diciamo io sto facendo così per conto mio ma perché ho abbastanza paura e non voglio ammalarmi da altri motivi insomma di di star male o di possibili malattie non voglio aggiungere questo allora siccome posso fare questa cosa la faccio capisco che altri non la possono fare sono difficoltà ma il più delle persone che lo possono fare che dovrebbero poterlo fare lo Stato dovrebbe poter contare su queste persone e dire non andateci state a casa non andate a divertirvi non andate a prendere l'aperitivo non andate state a casa e anche a casa attuate delle misure se vivete con persone conviventi insomma cercate anche a casa di mettere la mascherina di non ospitare amici di fare queste cose qua siate responsabili abbiamo dimostrato che meritiamo una fiducia di questo tipo senza altre misure io credo di no insomma no anche perché se alcune persone sono responsabili altri non lo sono e soprattutto questo atteggiamento non non è servito perché la malattia ha ripreso a crescere in maniera esponenziale e quindi due sono le cose che poteva fare il governo a questo punto nel momento in cui il nemico è quello e in questo momento bisogna concentrarsi su quel nemico rifare un nuovo lockdown cioè chiudere tutto tranne le attività essenziali per la sopravvivenza come è stato fatto nel primo lockdown e quindi tenere tutti a casa allora se tiene tutti a casa tutti chiusi a casa è chiaro che poi di conseguenza anche i bar il cinema le sale da concerto tutte le manifestazioni culturali e tutto quello che adesso si critica erano chiuse di conseguenza rimanevano chiuse comunque no per forza se nessuno ci va al bar tanto vale che il bar rimanga aperto se nessuno ci va al ristorante perché tutti stiamo a casa i ristoranti chiudono se nessuno va nei negozi i negozi è inutile che stiano aperti è meglio che chiudano anche loro e così stanno a casa anche loro quindi avrebbe potuto fare una cosa del genere la quale avrebbe comunque un costo altissimo l'altra cosa che ha fatto secondo me che poteva fare era questa fare il contrario cioè chiudere tutte le occasioni di incontro come di di assembramento oppure di sì luoghi dove si trovano le persone insomma no si incontra per quanto protette per quanto così insomma no ma perché qualcosa sfugge sempre insomma no se anche la scuola è tanto protetta e si fanno tutte le precauzioni poi i ragazzini si trovano insomma lì vedevo erano insieme che leggevano sul telefonino senza mascherina fuori durante la ricreazione nei mezzi poi insomma è difficile contare quindi bisogna evitare l'occasione di assembramento allora per evitare le occasioni di assembramento di sera che è il momento in cui la gente non lavora nel pomeriggio nel tardo pomeriggio dopo una certa ora alle 18 alle 19 la gente che esce per lo più esce per andarsi a divertire non esce per questioni di lavoro quindi per tranne quelli che gestiscono i bar che gestiscono i ristoranti e così via ma la gran parte della gente normale esce dopo che ha fatto una giornata di lavoro per andarsi a divertire ecco che allora se tu chiudi tutte le occasioni di divertimento o di svago dalle palestre allo sport anche quelle attività che non sono solo di divertimento e di svago ma sono delle attività che in qualche modo per un periodo si possono anche non fare in tempo di guerra insomma bisogna fare dei sacrifici c'è poco da fare allora si chiudono queste attività e la gente è costretta poi a rimanere a casa perché non ha più dove andare insomma quindi o costringi la gente con la forza a rimanere a casa allora tutto il resto si chiude di necessità perché non ha più il pubblico che lo frequenta oppure fai la cosa opposta chiudi tutti i luoghi o le occasioni di incontro più o meno buone più o meno protette quindi tutti i luoghi in modo tale che la gente stia a casa ma lo scopo non è tanto quello di chiudere il cinema anche se il cinema è un luogo sicuro o di chiudere il teatro che è un luogo sicuro o di chiudere il ristorante che è un luogo sicuro è di fare in modo che la gente sia costretta a restare a casa perché non sa più dove andare e quindi resta a casa e restare a casa è la cosa fondamentale insomma è quella che ti permette di fare in modo che la circolazione del virus rallenti e si fermi è questa di tenere questa linea dopodiché quando teniamo questa linea non sappiamo ancora se il nemico sarà vinto il nemico non sarà vinto ma voglio dire forse potremmo arrivare a dei numeri che ci permettono di mantenere le strutture sanitari quindi che chi ha bisogno di cure sia curato no? perché attualmente succede che ci sono persone che stanno male al di là del coronavirus e che non possono avere l'intervento che non possono avere le cure necessarie e che soffrono soffrono e riscano anche la vita insomma riscono conseguenze il problema è questa tenuta dopodiché noi come dire il tutto adesso si è spostato su una linea di difesa che che è una linea in qualche modo non dico rinunciataria no? ma è il passare dalla prevenzione che è la cosa fondamentale cioè la medicina dovrebbe servire per evitare che la gente si ammali no? quando si passa su una linea diciamo ulteriore che è quella di curare la gente ammalata quando si potrebbe evitare che la gente si ammale è già una sconfitta che si è subita no? cioè quando diventa cura e non prevenzione quando si lascia che la gente si ammali e poi la si cura è come in guerra no? cioè in guerra la politica dovrebbe fare sì che non si faccia la guerra no? quando si arriva alla guerra è già una sconfitta della politica no? e poi la guerra fa i morti fa i feriti no? e allora ci sono gli ospedali gli ospedali da campo le strutture le croce rosse queste cose qua ma non è potenziando la croce rossa che ci si difende dalla guerra no? quando si arriva all'ospedale da campo il malato è già mutilato è già grave sta morendo bisognava non arrivarci prima allora bisognava lavorare prima con la politica per non fare la guerra e poi per avere al fronte una capacità diciamo così difensiva tale per cui morisse meno gente possibile o venisse ferita o venisse meno gente possibile e rifatto sempre alla prima guerra mondiale che trovo un esempio più simbolicamente più interessante e quando arrivi all'ospedale da campo è già stata insomma l'individuo è magari già rimesso il brazzo la gamba il volto insomma la mente insomma è già e quindi ha già perso una battaglia dal punto di vista della medicina no? quindi anche questa cosa di arrivare all'ospedale è già una una perdita una sconfitta dopodiché abbiamo rinunciato ancora nel senso che nel momento in cui non siamo più capaci di fare prevenzione ormai tutta la la mentalità tutta la si è concentrata sulle armi che rimangono no? quindi sul vaccino e sulle terapie anticorpi monoclonali e altre cose insomma sulla possibilità di alleviare i sintomi insomma no? le altre medicine il cortisone e così via sta succedendo questo no? abbiamo perso la possibilità di tracciare abbiamo perso la possibilità di prevenire la linea si è spostata ancora più indietro insomma no? cerchiamo di studiare qualcosa che ci salvi perché avremo la medicina che ci cura cioè che ci previene e che ci cura e questo poi insomma secondo me è un po' la logica della della tecnologia no? cioè la tecnologia c'ha la tecnica insomma no? scusate il mondo della tecnica sta un po' creato questa cosa no? lasciamo che le cose succedano perché comunque abbiamo sempre possiamo sempre contare sulla ricerca che ci garantisce sempre che di fronte a un male troviamo il rimedio pensiamo anche agli antibiotici no? per esempio la penicillina no? all'inizio dopodiché i germi diventano resistenti e allora la tecnica ci fa trovare antibiotici di seconda generazione che vanno a distruggere anche i germi che erano diventati resistenti alla penicillina poi questi germi diventano resistenti anche agli antibiotici di seconda generazione e quindi dobbiamo studiare gli antibiotici di terza generazione ma intanto i germi diventano sempre più cattivi insomma no? e c'è un ciclo continuo da questo punto di vista no? cioè dobbiamo sempre pensare un personaggio particolare che ho visto che ho visto a piazza pulita insomma no? il quale si fa il testosterone no? per fare aumentare i muscoli per fare queste cose qua e diciamo è orgoglioso di farsi questa roba qua lo fa con molta nonchalanza insomma si fa vedere inquadrare così no? e quando gli dicono ma tutto sommato il testosterone poi fa male e beh ma insomma ci sono sempre i rimedi per se anche mi faccio del male c'è il rimedio per evitare i sintomi collaterali ecco questa idea di rincorrere sempre a dei rimedi è un'idea falsa insomma no? è un'idea che ci dà il mondo della tecnica anche per consumare per fare più ricerca ma è un'idea che parte già perdente perché si rinuncia alla prima linea per non stare male per non aver bisogno dell'antidoto per quella cosa là tu che non puoi non fare il testosterone perché lo fai insomma devi evitare prima di fare il testosterone e non contare su sui farmaci che ti riducono gli effetti collaterali perché non sarà mai la stessa cosa prima o poi gli effetti del testosterone anche con i farmaci che ti riducono gli effetti collaterali li sentirai ne sarai danneggiato ecco questa idea di che ci sarà sempre un rimedio che quindi possiamo come dire possiamo andare avanti possiamo distruggere le cose perché comunque la tecnologia la tecnica inventerà sempre delle nuove soluzioni possiamo possiamo inquinare perché troveremo dei sistemi per disinquinare e così via insomma possiamo non funziona alla lunga insomma il mondo peggiora da questo punto di vista secondo me le misure che sono state prese non avevano molte alternative insomma se lo scopo era quello di fare in modo che la gente non 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 uscisse di casa insomma no si è scelta la via più indolore e qui si tratterà di verificare insomma no perché non ha detto che questa via più indolore questo tentativo di salvare in qualche modo capra e cavoli funzioni questo lo dimostreranno i dati insomma il vaccino non arriverà così presto insomma nonostante tutte le dichiarazioni sono convinto che non arriverà così presto e non arriverà così presto per tutti ma l'aveva detto anche poco fa su Mantovani insomma e quindi siamo in una situazione molto critica chiaro che questa situazione come dire sta sollevando tutte quelle componenti che uno non credono più nelle garanzie che il governo dà dei risarcimenti che poi che si trovano danneggiate nella loro attività e nelle loro possibilità occupazionali nel lavoro che si erano creati ma soprattutto liberi professionisti esercenti persone che lavoravano nel settore o che lavorano nel settore turistico insomma i turisti sono persi c'è poco da fare qui lì non è neanche questione del governo insomma è una questione che si è puntato tutto in un'economia turistica insomma che non sempre dà tutte le garanzie insomma che è soggetta che è soggetta a degli sbalzi insomma che è soggetta ad eventi di questo tipo come dire si gioca la questione sui risarcimenti insomma allora io sentivo Bersani che proponeva una cosa a cui avevo pensato anch'io prima voglio dire con che criterio verranno dati questi risarcimenti a me sembra che la cosa più semplice e più giusta sia quella di dare i risarcimenti in proporzione a quello che è stato dichiarato fiscalmente il reddito dell'anno precedente insomma quindi sarà giusto e doveroso dare i risarcimenti alle persone che saranno costrette a chiudere in base a quello che hanno dichiarato fiscalmente e alle tasse che hanno pagato l'anno precedente insomma in percentuale voglio dire per il tempo che saranno stati costretti o saranno costretti a chiudere insomma risarcirli secondo un criterio insomma che può essere il criterio che poi potrebbe essere il più facile da verificare e da questo punto di vista anche il più facile poi da pagare secondo me è ovvio che tutto quello che ho detto è opinabile è soltanto la mia come dire quello che io penso insomma di questa situazione e ripeto è anche quello che io nel mio piccolo cerco di fare siamo tutti soggetti alle conseguenze di questa cosa che ci toccherà anche economicamente tutti quanti è chiaro che se uno come dire sta un po' meglio e deve perdere qualcosa gli resta da sopravvivere se uno sta peggio e perde qualcosa magari rischia la sopravvivenza e in questo deve intervenire lo Stato ma è chiaro che lo Stato poi si rifarà su chi sta un po' meglio insomma e quindi ci sarà comunque una la necessità di una ridistribuzione della ricchezza facendo pagare più tasse a chi ha un po' di più o a chi ha dei redditi un po' un po' maggiori insomma quindi è chiaro che è una conseguenza che però questa economica insomma è importante ma il nemico alle porte in questo momento è il virus insomma in questo momento soprattutto di ripresa di crescita esponenziale della curva pandemica è inutile recriminare su responsabilità passate perché poi non ne diamo fuori per per quello che riguarda le recette sul presente mentre dobbiamo concentrarci sul momento che è molto difficile e su questo momento dobbiamo mettere tutte le nostre energie e anche la possibile la necessaria unità di intenti insomma sapendo che anche le cose che magari non sono state fatte molte di queste cose forse hanno anche delle cause da persona che era preoccupata e che prevedeva cioè che non ha mai sottovalutato il pericolo e che già agli inizi di febbraio prevedeva che già prima del covid aveva criticato la privatizzazione della sanità e come era andata questa cosa qua non ha aspettato il covid per accorgersi di questo però anche da questo punto di vista mi rendo conto che non è facile far passare delle scelte pesanti nei confronti di un'ipotesi pur immaginando che questa epidemia poteva seguire diciamo così l'andamento poteva avere delle analogie molto forti con l'andamento della spagnola era difficile fare come dire finché la gente non si è reso conto non ha visto che quello che succedeva non ha visto le rianimazioni in piena che la gente potesse accettare determinati provvedimenti in genere succede che si accettano determinate cose soltanto in uno stato di necessità finché non si crea uno stato di necessità ci sarà sempre un grado di polemiche di negazione del fatto che rende molto difficile per un governo far passare un determinato provvedimento anche se è giusto anche se è lungimirante la lungimiranza è diventata una cosa che è difficile attuare in politica dovrebbe esserci la democrazia questa cosa è molto difficile poi se ne pagano le conseguenze insomma e soprattutto poi si ragiona col senno di poi insomma e allora si dice ma se fosse stato fatto quello e magari lo dicono proprio quelli che in quel momento erano assolutamente contrari a quello che c'era da fare insomma e sono sempre cose che arrivano dopo e la sensazione è quella che la realtà è sempre come diceva Gaber che la realtà è sempre più avanti tu la rincorri ma arrivi sempre in ritardo e questo ritardo poi è quello che ti fa essere perdente insomma che ti fa non puoi fare mai le cose giuste al momento giusto quando insegui arrivi sempre in ritardo e soprattutto poi in situazioni come queste quando la crescita quando il nemico si riproduce in maniera esponenziale insomma la realtà è più avanti e la politica è per conto suo lenta soprattutto in democrazia insomma ma la democrazia è comunque il regime migliore che ci sia una buona giornata è più avanti che ci sia Grazie.